Bene, bene! E' l'ora di pranzo! Ehi, dov'è il mio cibo? L'ha preso dell'osso! Au, au! Hai preso il mio cibo! Au, 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 au! Spiace tanto! Cosa devo fare? Io ho già mangiato il tuo osso! Mi dispiace tantissimo, babbone! Anch'io mi dispiace tantissimo, babbone! Ruff! Au, 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 au! Mister papà Francesco! Volevo confessare del mio cibo... del mio peccato! Au, 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 au! Wow, wow, wow! Sta buono! Cane Yorchak! Dice il prete, il cane Yorchak ha confessato il tuo peccato! E ha chiesto il prete di chiedere il perdono di Dio! Ma però, ricordati di non fare mai più un altro peccato! Chiaro? Chiaro! Bene, puoi andare via adesso! Buona serata! Ruff! Grazie! Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti.